Per la gestione delle assenze mettere la spunta sull'alunno assente apparirà un quadratino rosso accanto al nome dell'alunno e una schermata che permette di gestire tutti i tipi di ritardi o uscite anticipate. Per l'alunno assente il giorno dopo troverete nella colonna delle info un pallino rosso. Cliccando sul pallino avrete la possibilità di giustificare l'assenza. Cliccare su giustifica e salvare.